Alla sede di Pietro a Roma sale oggi un vescovo che non è romano, un vescovo che è figlio della Polonia ma da questo momento diventa pure lui romano. Fratelli e sorelle non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà, non abbiate paura, aprite anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo lui lo sa. Permettete quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo, solo lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. E ancora mi rivolgo a tutti gli uomini, a ogni uomo. E con quale venerazione l'Apostolo di Cristo deve pronunciare questa parola. Uomo, pregate per me, aiutatemi perché io vi possa servire. Amen.